Vedo ciò che tu non vedi. Vedo addirittura cose che tu non puoi vedere. Ti chiedi chi o cosa sono? Beh, non è facile spiegarlo. Aiuto le persone ad analizzare i fatti complessi e a comprenderli. Ammetto che è un po' vago. Vediamo di diventare più concreti. Ti aiuto a trovare rapidamente un veicolo per recarti dal punto A al punto B. E sono al tuo fianco anche nei terreni difficili. Ti posso dire se là dove abiti è consigliabile farsi vaccinare contro le zecche. Il rischio di erosione dei tuoi campi? Posso illustrartelo. So quando e quanto rumore c'è in un dato luogo. Questo ti aiuta nella ricerca di una zona residenziale tranquilla. E quando l'avrai trovata, saprai da me quali sono i tuoi diritti di proprietario o costruttore. Per te, rendo l'invisibile visibile. Le mie raccomandazioni possono salvare delle vite. E a volte aiuto addirittura Copido a scagliare la sua freccia. Comunque non mi limito a considerare il qui e ora. Posso dare uno sguardo anche al passato. Io sono, per così dire, la memoria del paesaggio. Oppure faccio previsioni per il futuro. Quanto farà caldo tra 50 anni? E nelle situazioni di pericolo, aiuto a prendere rapidamente le decisioni giuste. Molte persone lavorano instancabilmente per aumentare le mie conoscenze, per coordinarle e per metterle a tua disposizione in modo rapido e semplice. Le mie conoscenze ti accompagneranno nel futuro digitalizzato, nelle auto a guida autonoma, nel cuore delle città intelligenti. Ci sono cose che tu non puoi vedere, ma cerca di guardare il mondo attraverso i miei occhi e vedrai che lo comprenderai meglio.